In tutto questo io so già che loro si staranno chiedendo ma perché siete vestiti uguali? Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo incredibile, fantastico, fantasmagorico, fantascientifico, fanta incredibile, pazzescamente, pazzesco, l'uomo della partita, l'uomo della gio... Eh, ho avvenuto! Video? Ah, ok, no, perché sei allargato un po' troppo. Oggi siamo qui sul mio canale con il nuovo ospite Fede Marconi. Mi facci parlare. Per carità, sarà un gran video. Sarà un video proprio di quelli incredibili perché noi l'abbiamo già registrato. Motivo... Che cazzo dici? Motivo per il quale vi chiediamo già a 2000 like perché come vi diremo nel video, quindi vedetelo tutto, a 2000 like succederà una cosa incredibile. Quindi voi lasciateli, è un video... Possiamo dire senza senso? Possiamo dirlo. Possiamo dirlo, però qui si troppo lì a fare una più ride. È un preferiresti, sorta di pack, se volete un ritorno di questa serie in maniera anche un po' più seriosa, perché seria no. Però seriosa sì, lasciate appunto quei like e quindi regà... Vede la video. Ciao. Va a chi vede, va. Quindi ragazzi, allora avete visto l'intro? L'avete vista? L'avete vista? Tornate indietro per vedere l'intro. Adesso c'è mettere un'annotazione con su scritto vedete l'intro. Ma le annotazioni hanno tolto il 2 maggio. Quindi signori, siamo qui! E tu direi perché siamo? Perché siamo qui? Perché siamo? Perché è voce del verbo siare. Terza persona... plurale. Ho chiuso una rima. E quindi registreremo... Ma io non so ancora che video è questo, perché non so, in realtà abbiamo chiesto più domande... È un fuck mai preferiresti. È un fuck bella questa. Cioè, hashtag fuck mai preferiresti nei commenti. Perché in realtà abbiamo chiesto le domande più volte. Esatto. In più volte... Io ho degli screen sul telefono, andremo a leggere domande proprio a caso. Però è bello perché farsi dei video programmati. Allora la prima domanda ce la fa... Con quale screen, tra l'altro? C'è la nostra diretta su Instagram. Ce la fa Sara che ci chiede... Io sono Sara. Io non è sicura di essere Sara e quindi ce lo chiede. Fidanzato? Ah, e tu sei fidanzato? Io no, te. Con te. No, in realtà siamo single incalliti. Sai dici incalliti? Incallitissimi. Incallitissimi. No, in realtà io mi sono lasciato da poco. Pietro torna indietro. O lo mette dietro? Magari. O lo prende dietro? Puoi essere? Ci chiede. Ci chiede. Preferiresti una notte con Snoopy o con tuo cugino? Tu? Io direi... Con Snoopy? Perché di notte con te ne faccio troppe. Te dovresti dire il contrario. Con me perché con Snoopy ne vedo troppe. Esatto, con Snoopy ne faccio troppe. Effettivamente però basti tornare a qualche ora fa perché stanotte abbia dormito su questo letto. Un letto solo che tra l'altro è un letto singolo ufficialmente. Io, lui e Snoopy al centro. Oddio. Fuckperale invece ci chiede... Ah no, aspetta, quello è l'hashtag. Matteo Richiudi ci chiede... Fuckperale, ti sei mai ubriacato talmente tanto da vomitare? Io non rispondo delle mie azioni... Io sono a stem. Lo devo dire davvero. Ma dillo, dai, su. Aspetta che adesso parte la musica del padrino. No, mi sono sbagliato con l'onna sonora, mi sbaglio sempre con Gigi. Gigi, Gianni, cambia nome questo ogni volta. Poi era Giuseppino, l'ultima volta era San Patrizio. Ma non era Gianni. Non era Gianni, no. Ok, allora, partiamo la musichetta di C'è posta per te. No, neanche. Che musichetta devi partire? I Teletubbies. Super Quark. Vai, parti. Allora, è stato nel lontano... Mi riusciano a uno. Esatto. Nel lontano... Tu parti male. Nel lontano dieci, che bordi? Nel lontano... Fammi finire. Nel lontano dieci agosto del duemila e sedici, la notte di San Lorenzo, io ero in spiaggia con i miei cugini... Lorenzo? Lorenzo, c'è? Esatto. Con i miei cugini in Basilicata e è successo che mi hanno fatto bere a tradimento dieci drink, tutti alla goccia. Bello, però. Non mica tanto, perché dopo un'ora stavo stirato per terra. Salve! Vieni a salutare. Venghi! 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 Allora, vatta a sedere, vatta a sedere. Venghi. No, stavo in diretta. No, stavo in un video. Stiamo registrando, poi uscirò. Ragazzi, lo riconoscete questo baldo giovane? Ah, dai. Dai, video ritorno. Allora, se questo video, se questo video arriva e supera i duemila like... Mi metto su YouTube pure io. No, facciamo la rivincita... No, quello è diecimila. Facciamo la rivincita di zio contro Fede, o Fede contro zio, perché l'ultima volta su Pes finì così. Ma quindi, in sostanza, tu hai raccontato questa cosa, ma alla fine... Hai vomitato o no? Allora, mi sono ritrovato che all'una e mezza stavo sdraiato... Allora, è stato bellissimo, perché la cena è stata... Ho pisciato davanti a tutti. Eh, va bella, ma non puoi dire queste cose, poi è family friendly. Mi sono andato a sdraiare sul mio bellissimo asciugamano, mi sveglio la notte fonda, mentre ero coperto da un altro asciugamano, mi riaddormento, mattina dopo, aperto gli occhi, ho trovato una pozza di vomito accanto a me, ho detto, aspetta, c'è qualcosa che non va. Poi tu hai vomitato senza sapere di aver vomitato? No, perché poi ho realizzato che avevo vomitato, e quindi ho rivomitato sul vomito. È come un bambino, ragazzi. Vabbè, te che fai tanto spavarder simpatico, te? Io manco bevo. Pantaparfa ci scrive, hai un figlio a casa. Non è che sta tra i capelli tua, bro? Adesso siamo arrivati alla domanda, clou del video. No, no, non so molto. Perché no? Dai. Non sei più tutto? Vabbè, ma cambiate. Samuele. 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 Lele. Proprio lui. Mai fatto, cioè il verbo avere lui l'ha lasciato bene. Mai fatto una sega su una prof? No, perché la scuola mia sono tutte vecchie, decrepite, bastarde infami. Io penso che lui l'abbia fatta. Io. Sì. Ma ci vediamo. Dico bene mamma, se mi chiedi come fa. Non trovo il pulsante. Bro. Voi sei cancellato la registrazione? Bro. Come sei bello. Non so, bello soffregno. Beh.